Ciao. Bentornato al programma tv di oggi con notizie come. Continua la rivoluzione in Rai. E i nomi che tutti conosciamo sono messi alla porta uno dopo l'altro. Le parole di Millie Carlucci su quanto sta accadendo. In questi giorni stiamo assistendo ad una vera rivoluzione in Rai. Con grandi nomi che abbandonano o sono messi alla porta. E un avvicendarsi di volti nuovi che tutti attendono con il fiato sospeso. Da sempre tv di stato. Con l'insediamento del nuovo governo targato Giorgia Meloni i cambiamenti ai vertici sono inevitabili. E di fatti l'ultimo è stato l'allontanamento dell'amministratore delegato Carlo Fuortes. Che ha dato le sue dimissioni. E a dare le dimissioni sono stati anche Fabio Fazio. Che passerà a nove. E Lucia Annunziata. Di cui al momento non se ne conoscono le sorti. Il primo dopo 40 anni di militanza e la seconda una decina in meno. Ma c'è chi non è d'accordo con il loro addio ritenuto da martiri. Enrico Mentana ha commentato. Spiegando cosa succede. Se accetti di lavorare in Rai sai che ci sono i partiti. Ogni volta ci sarà qualcuno che tenta di mettere i suoi uomini o le sue donne ma non c'è mai lesione della democrazia. C'è lo spoil system. Basterebbe una riforma di una riga. Quella per sottrarre la Rai al controllo dei partiti. Le polemiche. In tutto questo marasma si attendono i palinsesti per la prossima stagione televisiva. In attesa di sapere se ci saranno altri cambiamenti e quali programmi saranno riconfermati o cancellati. Di sicuro al momento sappiamo che a rimanere ben salda sulla sua poltrona è la star del sabato sera Rai Millie Carlucci. Che con il suo seguitissimo show Ballando con le stelle continua a portare audience nella rete. Questo nonostante. O proprio grazie. Alle polemiche che si creano sulla pista da ballo e fuori. E la domanda che tutti si stanno ponendo è. La giuria sarà riconfermata? I giurati dello show sono Caroline Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Proprio quest'ultima è quella che porta più Pepe al programma con le sue continue litigate con concorrenti, colleghi, utenti social e persino la stessa conduttrice. Continui battibecchi che fanno pensare ad un allontanamento dallo show. Millie Carlucci prende le distanze. A creare attesa sui nomi la stessa Millie Carlucci che ospite nel programma Da Noi, a ruota libera di Francesca Fialdini ha commentato le voci. Sono state dette molte cose. Ma la giuria dell'anno prossimo non è stata riconfermata. Questo semplicemente perché stiamo ancora lavorando al cast. Più avanti, a settembre, si parlerà di giuria e di tutto il resto. In realtà sembra che la sua sia solo una mossa astuta volta a tenere alta l'attenzione intorno al suo show Ballando con le stelle. Infatti in un'intervista a Chi Selvaggia Lucarelli ha rivelato. Sono stata confermata programma ancora in corso. A breve vedrò Millie Carlucci per definire le ultime cose. Ho trovato fastidioso questo continuo voler far credere che fossi stata cacciata. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale. Per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.